Il frucaccio è... Allora, iniziiamo! Che non va, che non va a direttore? Allora invitiamo il concorrente ad uscire fuori dalla pista così diamo spazio agli altri grazie Agostino un applauso glielo facciamo ad Agostino per il coraggio, per l'intrapprezzenza grazie Agostino bravissimo ok Salvatore Marino il prossimo concorrente il prossimo scritto benché sia il nostro e questo sarà pure un applauso a Salvatore Marino un applauso un grande cari ragazzi giusto attenteremo informativo il fratello di quello strunzo di Pip a Salvatore Marino